Maria De Filippi è stata travolta da un dolore indescrivibile a seguito della scomparsa di Maurizio Costanzo, un evento che ha affrontato con una forza e una dignità straordinarie, ma che l'ha segnata profondamente. L'eredità lasciata da Costanzo è vasta e carica di significato, non solo per il suo valore materiale, ma per il tesoro intellettuale che racchiude sceneggiature, libri, programmi televisivi e testi musicali che hanno plasmato la cultura italiana. Tra questi, spicca la canzone Se Telefonando, un capolavoro che ha segnato un'epoca non solo grazie alla voce di Mina, ma per tutta l'Italia. Prima di continuare in questa toccante vicenda, vi invitiamo a sostenere il nostro lavoro lasciando un mi piace al video e iscrivendovi al canale. Ogni gesto di supporto è per noi di inestimabile valore. Grazie. Recentemente, alcune voci infondate hanno iniziato a circolare sul web, ipotizzando un patrimonio di circa 70 milioni di euro. Tuttavia, queste affermazioni sono state smentite con fermezza dalla famiglia Costanzo. Maurizio possedeva due appartamenti a Roma, dove viveva con Maria De Filippi, oltre a proprietà in provincia di Seto, vicino alle terme di Saturnia, e una villa sul mare ad Ansedonia, il suo rifugio preferito, dove trovava ispirazione con vista sull'argentario. Questi beni, per quanto preziosi, rappresentano solo una frazione della sua vasta eredità. I figli di Costanzo, Gabriele, Saverio e Camilla, attraverso il legale di famiglia, hanno smentito categoricamente queste voci, definendole false e prive di fondamento. In particolare, l'avvocato Pierluigi De Palma ha dichiarato che la famiglia Costanzo è rimasta profondamente ferita da queste insinuazioni, trovandole inaccettabili e dolorose in un momento già così difficile. Maria De Filippi, ancora scossa dal lutto, ha espresso il suo profondo disappunto per queste falsità, che considera sorprendenti e crudeli in un momento tanto delicato. E voi, come vi sentite di fronte a queste notizie? Fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i nostri prossimi video e aggiornamenti.